Ciao a tutti, qui è sempre Arduino ed è un altro video formativo. Quello che voglio fargli vedere è come lavoro sul 4 ore. Voi sapete già che i miei time frame di riferimento sono comunque time frame alti e solitamente io lavoro sul daily, no? Quindi abbiamo la coppia franco-svizzero-yen. Sul daily vediamo che è partito un trend ribassista, vedete, formato da varie candele rosse. Vado sull'H4 e vedo se c'è un setup di entrata. Allora, cosa faccio? Prima di tutto segno supporti e resistenze, che è una delle mie basi di operatività. Una resistenza, un'altra resistenza è qui, perché vedete che supporto, supporto e poi è resistenza. Dopodiché vediamo vari candele di congestione e ci accorgiamo di queste due candele. Io le chiamo candele doppio minimo. ovvero nel trend, due candele che hanno la chiusura della prima e l'apertura della seconda allo stesso livello con due colori diversi. Sono nella direzione del trend. Quindi, quello che io vado a fare è andare a posizionare il mio supporto, che è questo, vedete, eccolo qua. Vedete che il prezzo ha battuto più volte. Dopodiché, una volta rotto, ha formato una candela molto forte di ribasso. Quindi cosa faccio? Io entro alla rottura? No, io non entro alla rottura. Visto che il grafico solitamente, cioè il prezzo, viaggia in trend, fa questo. Quando io trovo un setup d'entrata che potrebbe essere questo, appunto, dato da una candela molto forte di ribasso, su trend ribassista, vedete trend, fa questo. E dopo, prima di riprendere, solitamente, fa uno zigzag, che riporta il prezzo sull'ex supporto diventato resistenza. Cosa faccio quindi io? Una volta che vedo questo setup sulle 4 ore, può succedere anche sul daily, lo faccio anche sul daily, vado a piazzare un ordine, in questo caso, di vendita limite, no, sell limit, appunto, su questo livello di prezzo, in area 83. Infatti, high 83.04, il prezzo è andato a ritestare l'ex supporto diventato resistenza, ed è scivolato giù. Quindi noi avremo un ordine a questo livello, posizionando uno stop loss, vediamo, cancelliamo un attimo, posizionando uno stop loss, a questo livello. Sopra, vedete, questo supporto diventato resistenza. Quindi avremo un ordine con un rischio in pips di 53 pips, 55 pips. Noi lo prenderemo appunto qui, da subito ci darebbe ragione, andando a prendere subito 46 pips, quindi quasi 1 a 1 come rischio rendimento, dopodiché posizioniamo subito, appena abbiamo un 1 a 1, prendiamo il profitto per il 50% della posizione 1 a 1, e spostando lo stop a breakeven qui a entrata, possiamo gestire il trade. Cosa succede poi nel trade? Vediamo che c'è altri setup come questo. Questo è quello che noi abbiamo preso. Questo è un altro nostro setup, che potrebbe farci incrementare la posizione, perché adesso saremo a rischio zero, quindi potrebbe essere un altro setup incrementativo, a questo livello di vendita, dove c'è una barra inside, nella direzione del trend, che ci dice di poter entrare in vendita, a questo livello, e quindi incrementare. e un altro dato da una falsa rottura al rialzo di questa bandera, che poi è chiuso sotto, quindi entrando subito a questo livello, ancora con profitto. Questi sono, come dire, quando si dice trend is your friend, cosa vuol dire seguire il trend, e gestire la posizione. Su 4 ore, quindi comunque non è una gestione stressante, è un po' simile al daily, però, insomma, ogni 4 ore, ogni 7 ore, 7-8 ore, si guarda la posizione. e vedete che da dove siamo entrati noi, tuttora, potremmo avere circa 200 pips, di profitto, avendone rischiati inizialmente 55, e con un rischio praticamente portato a 0, quasi subito. Quindi un rischio rendimento, che poi si poteva appunto, con scaling incrementare, di 1 a 4 circa. Tutto qui, questo è un altro dei video didattici formativi, per qualsiasi cosa vi potete contattare, alla mail, a.schenato, chiocciola, hereservice.it, scritto, h-e-r-e, service.it, oppure visitare il mio blog, hereforex.blogspot.com, tra poco arriverà online anche il sito www.hereforex.com, vi aspetto numerosi, e ci vediamo alla prossima.